Ciao a tutti ragazzi, sono vero 91 Che cavolo Allora Noi Facciamo adesso una specie di merenda Abbiamo pranzato E mangiamo L'iovetto Kinder Che vabbè Ma quella è di questo Sì E prendiamo una lattina Questa qua Ma è un guglia All'anguria E poi abbiamo questo Avevi Adesso non ce l'hai più Mamma Dai Cattiva mamma Molto birichina oggi Ma fatti vedere No cavolo Sto guardando Non piscato Dove lei chiede Sgiracchiata terrorista Non c'è delle parolacce Non c'è delle parolacce Non c'è delle parolacce Questa Sono delle cose vere Questa Che è stato cancellato Che è stato cancellato Che mamma è una terrorista Non parla della figlia terrorista No Tocca le mie orecchie Perché ho messo prima Gli orecchi nuovi Fanno male Non c'è delle parolacce Non c'è delle parolacce Non c'è delle parolacce Non c'è delle parolacce Ma aprile cassette altrui Beh ho già aperto Ti dà un caccio Che tu ti dà aperto Sei attenta Vediamo un po' com'è Sono quei cassetti Che non basta Che posso Ma chi Ci apro Beh non è così Tanto schifo Ma Sì ma è meglio, così ti viene, ti viene, ti viene, no, ti viene, eh, sì, l'ho capito. Ti dà diarrea. Andai in bagno. Andai in bagno, sì, tolto l'ho. Questo l'ho dato fino a cancellare. A giorni qualcuno se ne è dovuti tutti. Quindi non ne abbiamo più. Perché l'hai aperto questo? No, quali sono quelli? Aia mamma! No, quelli non sono aperti. Sì, sono aperti, Anika, quelli non sono più stelvi? No, quelli non sono, ci sono altri. Inoltre ce li ho nel cassetto. Mi sembra... Sono piena. Te credo? Boh. Te credo, ho andato il riso, eh. Con pure il nostro buco. Eh, è punto. Più... Sì, ho preso il riso con il nostro buco. In più... Ha preso la tortina... Guarda. Siciliana. Guarda, è la grossa così, però, dai. Sì, è la cassatina, è la piccola così. Mamma mi sta facendo ingozzare la roba. Io? E' lei che si ingozza. Poi dà la colpa a me, è stata disgraziata terrorista. Perché mi ha fatto cancellare... Scusa, mi ha fatto cancellare il video. Sto facendo con questo, mamma. Lei mi ha fatto cancellare il video. Aia! E' tutta colpa tua perché mi dice un sacco di parolacci. Ma fa... Brodo? Tu vatti a farlo in giro. Io non vado a fare un brodo, ma tu vado a farti un giro. Perché quando torna a casa, ti dobbiamo mangiare. Se non ti piace, buttalo. Perché è il ca... No, mamma. Non ti piace? No. Buttalo in tue rette, se è possibile. Io non ce lo mangio al cane. All'altro. Mi ha fregato il mio coso. Mi ha fregato la mia merenda. Apre la bocca. Apre la bocca. Perché vuol dire anche questo? No, non è buono, mamma. Che colore. Buttalo in bagno. Eh, non bacchate, mo. Ancora con sti cosi. Buttali al barbaio. Il mio barbaio la c'era me. Buttalo, non ci serve un ca... E ti ha? Un cavolo. E mi ha sopperti i barbaio? Sì, ecco. Lo fa un cuore. Vediamo che barbaio c'è dentro, là. Dov'è? Andiamo. Ah, no, i capelli. Che due ne ho quattro messi in cruce. Che palla che mia mamma. Eh. Non si dice. Che un piscato che è mia madre. E' un po' con elefante. Che bestiaire. Ma per l'amore. Mia madre. Ma per l'amore di Dio. Bella mia vecchia mamma. Io per il copino faccio la testa. Esagio. Brava mamma. Tirami su perché c'è. C'è la cenza. Scusi, è un po' volante. C'è la cenza. È un po' spreso, magari. Ok. Perché non si scrive? Tu fai i video urlanti. Che capo. Che caspita c'è il cammino. È due pizze. Fammi bene. Prima riso e poi l'ammazzo. O l'ammazzo senza ridere? Le pizze. Le pizze. Sarca, se hai due pizze io con te i video non le faccio più. No, ma perché? Perché sei una pizza. Grazie. Pizzetta. Pizzetta. È una... È una... Un angelo con la coda. Ma non esiste un angelo con la coda. Quello che cos'è secondo te? Una boiata. Una boiata. Questo qua. Allora, abbiamo anche un uomo. Se li chiamo? Abbiamo Marina. E abbiamo Veronica. Marina e Veronica. Fa vedere che ce la sono. Che è? Che le sei te? Che è? Che è? Che è? Questa però è la coda. Grassa, grossa con gli occhiali. Cicciona con gli occhiali. Anche la mamma è cicciona. Me lo direi. Eh! Quella è la mia! È una ladra. Allora, facciamo un video su come inquinare l'acqua. Sì, possiamo farlo. Buona idea. Buttando sta roba si inquina l'acqua. Che scherzo. Tossi. Buttare la sbattugniera. Non buttare. No, la buttare in cesto. In bagno. No, non buttare in bagno. La mamma è che si inquina l'acqua. Ti faccio vedere il video come si inquina l'acqua. Bello. Epico. No. Sai cosa mi sto per fregare? Cosa? No. Mettilo giù. Lei è solamente una povera caramellina che mi dice mangiami. No, mettilo giù. Giù. non la piante meno. Se non la piante me ne vado. No. Io con i video non mi faccio più. Ancora la caramella mi ha fatto mangiare. no. Te la mi cavali prendi. Ah, ecco. Esco la mista barbari. Cosa è? Ma cavolata buttare. Siamo tutto uguale. Vai col tango. Lo butti? che ci devi fare facciamo cosa o me li monti no butto molto barbari no io facciamo montata monica ma io lo butto buttiamolo ma barbari mi faccio molto da monica poi se mi piacciono anche i miei 2 ok scusa cammello ricavate certo qua cazzo tutto brutto perché sono veramente gazzate oh ne ha regalato la cara non mi fa male qua certo è venuta tutta di un colpo devi perdere piano le lattine di roba ai 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 c'è il cestino mi presento il cestino della carta non c'è niente da dargli devo aspettare un attimo a bere ma devo fargli vedere kinder ma proprio ma perché gli fai battere il cervello a testolina lui questo credete è il nostro caro amico attento che non c'è l'uovo kinder sul tavolo si chiama kinder come l'ho detto kinder come la barretta ed è un animaletto un cagnolino un anno e mezzo di un anno e mezzo devo scappare in bagno ed è molto bello torno subito affettuoso pelucone sembra un peluche ma in verità non lo è poverino lui cerca di scappare una volta che tentiamo di tenerlo in braccio perché non è tanto abituato ad essere tenuto in braccio chi è quello lì? chi è quello il kinder? chi è? chi è quello lì? guarda che c'è il cane guarda che c'è il cane là guarda che c'è il cagnone là eh? hai visto il cagnone? adesso poverino lo rimetto per terra perché altrimenti ecco qua qua le gambe troppo dita che in terra oddio quanti io vi farei vedere questa camera quanti parbaia eccomi eccomi ma ti è stato male? no si perché ho mangiato il vattico quindi è scaduto no perché ho bevuto troppo veloce per vedere con calma queste sono cose che vanno gustate infatti infatti il video si chiama Gusta ok stavo dicendo che quelli in questa camera quanti barbaici sono ma che c'è la mia madre ma che c'è la mia madre senti vorresti dire che questo non è un barbaio barbaio formato no è una cosa di collezione non è un barbaio un barbaio formato abbiamo comprato il topolino il topolino il topolino ha letto il topolino si legge il topolino si legge si è un fumetto non lo facciamo lo conosceranno no il fumetto che è vecchio con il più vecchio di me e dentro fanno in quattro parti hanno messo una scacchiera e questo è uno degli scacchi ed è esattamente paperon dei paperoni bianco poi adesso c'è il secondo volume gli fanno paperon dei paperoni nero con Donald Duck nero è in edicola tutti i mercoledì sono altri due volumi c'è anche il pluto c'è anche il pluto ma le ho già fatti vedere in video eh non fate non farglielo vedere ce l'ha già ok le lattine le abbiamo finite ci vediamo guardate questi poi ditemi sono bambolini questi traversiti barbai barbai noi ci vediamo sempre con un prossimo video ciao alla prossima ciao ciao